I dati della pratica clinica corrente raccolti in ambulatoria Corsi, il cosiddetto Real World, assumono un ruolo sempre più rilevante per valutare l'efficacia dei farmaci e dare un contributo alla ricerca al fianco dei tradizionali studi clinici controllati e randomizzati. Se ne è discusso a Milano in un media briefing focalizzato sul valore dei dati Real World in oncologia, con particolare riferimento al tumore della mammella metastatico. Nell'ambito degli studi prospettici randomizzati tu hai dei pazienti estremamente selezionati, con delle caratteristiche specifiche, non hanno comorbidità, non assumono terapie concomitanti, quindi è un setting sperimentale estremamente lontano dalla vita reale. Gli studi Real World ti danno la possibilità quindi di verificare quello che si chiama effectiveness, vale a dire l'efficacia di un trattamento in una popolazione di pazienti che è più vicina a quella che tu vedi quotidianamente. L'idea di fondo è quindi che oltre che per lo sviluppo dei farmaci, i dati Real World possano rappresentare un'evoluzione della medicina personalizzata, grazie al fatto di considerare una varietà più ampia di fattori. Il Real World ci aggiunge perché ci fa vedere come le pazienti con comorbidità, che assumono vari tipi di farmaci, perché la paziente che noi vediamo è una paziente, calcoliamo che stiamo parlando di pazienti in post-menopausa, che prendono almeno 5 o 6 compresse e questo noi non lo sappiamo dallo studio clinico. Anzi, lo studio clinico non le ha proprio considerate le comorbidità e quindi sì, si ampliano le possibilità terapeutiche a una platea maggiore di pazienti. All'evento ha partecipato anche Pfizer che ha realizzato uno studio P-Reality Eggs basato sui dati Real World che ha aiutato a comprendere l'efficacia di una specifica terapia combinata per il calcinoma mammario metastatico. La Real World Evidence rappresenta un elemento imprescindibile nell'ambito di tutto il ciclo di sviluppo di una molecola e noi come Pfizer sia headquarter ma anche come affiliata siamo fermamente convinti che Real World Evidence debbano entrare a far parte dello sviluppo di una molecola. Possiamo veramente riconoscere la Real World Evidence come un elemento innovativo proprio per migliorare la governance sanitaria. Anche a livello di efficientamento della spesa farmaceutica.